La costa del Cerrano anche quest'anno è stata insegnita con le quattro vele della guida blu di Legambiente. Un riconoscimento che va a sormarsi ad altre due ulteriori conferme come quelle della bandiera blu e della bandiera verde assegnata dai pediatri italiani per quelle spiagge a misura di bambino. Riconoscimenti che soddisfano il presidente dell'area marina protetta, Torre del Cerrano, Fabiano Aretrusi. Noi naturalmente siamo già non alle porte ma con l'estate che è già iniziata, proprio per questo abbiamo preparato e iniziato da tanto tempo insieme alle guide del Cerrano una serie di attività che ci permettono di far conoscere l'area marina protetta, di viverla anche nell'ottica di una promozione del turismo sostenibile e responsabile. Diverse sono le offerte proposte, dalle visite guidate in snorkeling alle attività in ciclo e escursionismo ed inoltre attività di yoga all'alpa oltre ai concerti al sorgere del sole. Mentre con l'inizio della stagione estiva è stato riattivato il campo boa di Ormeggio proprio di fronte all'area marina protetta, così da permettere alle imbarcazioni di potersi fermare senza buttare l'ancora. Vanno avanti anche le vostre attività amministrative perché comunque firmate protocolli quasi ogni giorno? Assolutamente sì, ci sono stati nell'ultimo periodo tantissimi protocolli di intesa con le associazioni del territorio che sono una parte fondamentale della crescita dell'area marina protetta. Io ricordo sempre il termine e l'importanza dei volontari che sono persone che mettono a disposizione le proprie capacità sul nostro territorio. Oggi ne abbiamo firmato, siglato proprio uno con lega ambiente lega ambiente a cui ci lega una storia anche per lo sviluppo dell'area marina protetta i corsi di formazione per il turismo ambientale, i corsi che ci sono stati ultimamente insieme al lega ambiente e alla protezione civile regionale per fronteggiare l'eventale sversamento di inquinanti a mare quindi questa firma di un protocollo è soltanto il percorso che avevamo già intrapreso da tempo e che proseguirà anche in futuro.